con il numero 57 Marco Sportiello con il numero 2 Guglielmo Stendardo con il numero 10 Aleandro Dario Gomez con il numero 13 Andrea Maziello con il numero 17 Carlos Carmona con il numero 18 Marcelo Estigarivia con il numero 19 German Gustavo Dennis con il numero 28 Urbi Emanuelson con il numero 29 Johan Penaloan con il numero 93 Bucari Dramé il nostro mister è Tireia con il numero 21